Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con un'altra parte dell'esplay di Meta Gear Solid Questa volta siamo nella parte numero 17 Nella parte scorsa abbiamo sentito le ultime parole di Sniper Wolf E ci siamo fatti bruciare un paio di volte nella fornace in cui ci troviamo ora Quindi ora andiamo avanti Cargo Elevator Gli ascensori che portano i carichi pesanti Allora Mio Dio Sembra un terremoto, in realtà è l'ascensore che scende Innanzitutto andiamo a vedere, cerchiamo per Ok oggi non sto a parlare Questo è l'ascensore, non saliamoci finché non siamo pronti veramente per andare No, 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 ci sono entrato Ok Basta Tutto qui Ok Ehm, sì Snake sta già qua di tasti di premere Perché lui qui c'è già stato un sacco di volte Non ne vedo Oh la E' nessuno che lo venga Esplosione che ho preso niente a cazzo, perché sono in esplosione? Pensa che è esploso, c'era il deo dinamite dove stava Snake. Cazzo, se me lo ricordavo mi ha cliccava il FAMAS. Dobbiamo fare come abbiamo già fatto nella scensura di attori di comunicazione. Cioè prendiamo FAMAS e ignoriamo tutti e tutti e spariamo a cazzo. FAMAS! Perchè c'è un disminente? Dove sta qui? Ah, finito. E ci ridanno anche le munizioni, giusto. Ok. Ora aspettiamo. Ah. Ok. Wow, c'è una telecamera. Dov'è? Dov'è? Eccola lì. Presa. Ormai sono diventato esperto nelle telecamere. Uh. Claymore. Un altro ascensore. Qui stavolta non dovrebbe arrivare guardi ninja. Torno subito. Scusate, non so se avete visto ma ho fatto un piccolo taglio che tra l'altro è abbastanza inutile. Qui c'è un altro ascensore, però come al solito vediamo se abbiamo già preso tutto. So, perfetto. Questa volta non dovrebbero arrivare ninja con un fucile che fanno esplodere, che tirano esplosioni a comando. Bensì. Corvi. I corvi sono innocui. Ma mi sembra che se ne attacchiamo uno poi ci attaccano tutti gli altri. Quindi... Ignoriamoli. Lasciamogli sbozzare sulla nostra testa. Snake. Ho qualcosa da dire a te su Naomi Hunter. Che cosa su ella? È questa conversazione sicura? Non ti preoccupi, il monitor è fuori. Ok. Cosa è? Cosa è? Cosa è stata anche nella F.B.I. Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? La storia di Dr. Hunter sull'interno sull'interno. Sull'interno di essere un segretario di Hoover in la F.B.I. Si. E poi andare a scoprire per investigare la mafia in New York. Si. Cosa è? Cosa è? È tutto una grande scuola. Cosa hai detto? È davvero mi preoccupato. Cosa hai detto? Cosa a scoprire? Cosa può essere un scopo. Cosa è? Cosa può vedere a scoprire. Cosa è? Cosa è? dire che il suo padre era giapponese? Sì. Nel momento in cui Edgar Hoover era head of the FBI non c'era nessun investigatore asiano. Inoltre, negli anni anni, le operazioni di mafia mafiasi non stavano ancora ancora iniziato. Poi iniziarono in 1960, in Chicago, non in New York. Ma... Hai dovuto guardare. Il Presidente e il Presidente stavano misteriosamente morti. That ninja... Molte cose strane sono succedenti. Dicevi che Naomi potrebbe essere dietro? Non lo so. Oltre a questo, o che sta lavorando con i terroristi. Potrebbe essere? Se trovo qualcosa, ringrazio. Inoltre, guardate. Oh, interessante. Mmm... Siamo arrivati. Allora... Proietti per la Nikita. Sì, nel prossimo boss questo è affrontato in più modi. Ma il mio modo preferito è appunto con la Nikita. Quindi bene, che ci abbiano dato delle munizioni. Sì. Vieni, andiamo. Vieni, andiamo. Vieni, andiamo. Vieni, andiamo. Corri... Vieni, Cossack. Di nessuno. Viagra. Questo è l'inizio del progetto per voi. Vieni, ragazzi. sono diventati sono diventati i raveni non sono scavengers come la maggior parte della gente pensano sono semplicemente tornando al mondo natural quello che non è più necessario a volte anche attacchano foxes tu eri la persona nella tanka M1 questo è stato un giusto per un grande bambino come tu ma non è stata una battaglia ma non è stata una battaglia i raveni e io stavamo testando per vedere che tipo di uomo sei sei il giudizio è deciso i raveni dicono che sei un vero i raveni dicono che sei un vero e perché è il giudizio? non posso andare i raveni Noi amici, tu e io. Non c'è una crosta nella mia famiglia. Ti sono pronti? Non sono freddo di scegli, ma sei una famiglia, quindi non posso rispondere. Ma non ci saranno ancora. Tu vivi anche in Alasca. Ti conosci del mondo Eskimo-Indiano-Olympics. Con questa fortuna, tu dovessi essere trainati nel stick-pullo in 4-man-carry. Sì, tu è vero, ma c'è un altro evento che mi accelgo. È chiamato l'Ear-Pull. È un evento in cui due oponenti scegliano l'occhio, mentre durano l'occhio freddo. È testo spirituale e la fortuna fisica. Tu vuoi scegliere l'occhio? La forma è diversa, ma il spirito è la stessa. Scegliere, scegliere! Nessuno sarà una battaglia gloriosa. Questo non è glorioso. È solo giocatore. La violenza non è un sport. Noi, vedremo se c'è l'occhio nelle vostre parole. Noi, non è vero. Come, come ho. Non è vero. Come ho. Come, come. Come, come. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come tutte le battaglie all'inizio è abbastanza semplice e poi inizio è un po' più difficile. Dai! Mi sta tornando il musico. Eh... Boom! Ma che cazzo è l'age visible? Dio cazzo! Sì vabbè posso fai... Si può usare anche le C4 del clay ma... No mi sta trollando. Eh lo sapevo. Mi voleva prendere mentre ero impegnato. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Amico! Vieni qui! Sono qua! Chissà se posso usare anche lo stinger. No! Cazzo! Oddio posso usare sui corvi? Oddio no! Cazzo! 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 Mi sto divertendo un casino però non vedo il C4. No ok, sotto... Assolutamente! tipo te... Guarda! Su qua eh? Sei stupido! Qui...uno mi vede o lo sta preso in una testa? Noi... Lo sto a tutto con me... Tutto muscoli non ce l'ho avuto. Vieni qui, barracca! Ci sta venendo veramente! No! Uff, proietti! Sotto! Sono qua! Ehi! Ehi! No! La chitta deve essere! Wow! Sì! Eh, c4, c4! Dov'è a c4? No, le finite? Allora... Piazziamo la Claymore, allora... Qui... Ma a me solo G passa sopra! Il modo migliore di vincere una battaglia boss. Questa è la mia esistenza che non è necessita in questo mondo. Ma il mio corpo non resterà in questo posto. Il mio spirito e il mio corpo diventano una con le raveni. indicato che trovo. Ma bene... ... Esa cosa sta trattando con te. Più? Il mio corpo è stato trattando questo momento. E' il mio corpo è stato trattando l'aerop play. Eccolo questa porta. Perché? Tu sei un uomo che non era creato dalla natura. Tu e il boss. Tu sei da un altro mondo. Un mondo che non voglio sapere. Andiamo! Andiamo! Andiamo con lui! Sto guardando da parte. Prima ti darò una scelta. L'unico che tu hai visto morire prima dei tuoi occhi. Questo non era il D'Arba. E' un amore. E' un amore. E' un amore. Un amore di Foxhound. Un amore. E' un amore. E' un amore. E' un amore. Un amore. E' un amore. E' un amore. E' un amore di Piazzo. E' un amore. E' un gale. Un amore. Ma non è un amore. E' un amore. il suo cuore. Ha 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 ha. That' is the end of my hint. You must solve the rest of the riddle yourself. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.